In occasione della Festa della Liberazione, il Comitato per la Resistenza, con la Fondazione per il Libro e Codice Edizioni, ha invitato a Torino Shin Dong-yuk, nato in un campo di prigionia in Nord Corea e autore del bestseller autobiografico Fugga dal Campo 14. Da quella visita è nato il video La libertà spiegata a chi ce l'ha, realizzato dall'ufficio stampa e ora online su crpiemonte.tv, in cui Shin Dong-yuk racconta la sua storia.